Nel video precedente a questo ho parlato di come siano nate delle monete peggate sull'oro, ossia ci siano dei token che vadano a rappresentare la versione digitale, o gettoner digitale, di oro fisico. Bene, legato a questo discorso ho introdotto anche il discorso di stablecoin, ossia monete che rappresentano in forma digitale quello che in una forma, diciamo più o meno fisica, sarebbero le fiat currency, le monete che noi utilizziamo per lo scambio comune, quindi l'euro, il dollaro, quelle monete che non hanno una copertura, diciamo fisica di nessun tipo, non sono coperte da una riserva aurea o alcunché, ma sono quelle monete riconosciute e accettate, perché appunto c'è l'imposizione di doverle accettare nei vari scambi commerciali. Bene, quelle sono le fiat currency e quelle che le varie banche centrali possono produrre a loro discrezione. La tematica forte che arriva è quella di un possibile ban o di una possibile forte regolamentazione su quelle che sono le stablecoin. Per chi non lo sapesse, stablecoin è proprio per definizione una moneta stabile, perché è pegata, ossia è legata al valore della corrispondente fiat currency che rappresenta. Se abbiamo una stablecoin dal valore di un euro, è perché rimarrà sempre legata al valore dell'euro che rappresenta. In linea di massima nasce questo concetto dove alcuni servizi hanno un deposito di fiat, come ad esempio un deposito in dollari, e per ogni dollaro depositato nel loro conto vanno a creare un token digitale, spesso e volentieri questo avviene su blockchain Ethereum, e quel token digitale è la rappresentazione digitale che rende il tutto più semplice, quindi invece di muovere dei soldi, chiamiamoli fisici, ma che comunque si muovono su un'infrastruttura più vecchia, ossia quella bancaria, questi token digitali si possono muovere su un'infrastruttura più veloce, più, se vogliamo, anche liquida, e un'infrastruttura che potenzialmente si interfaccia con tutto il mondo della decentralizzazione, e quindi in particolare nasce questo concetto, questa è la base del concetto della finanza decentralizzata, della DeFi. Fatta questa premessa, che è obbligatoria perché in parecchi ancora confondono il concetto di stablecoin, e ancora mi chiedono perché alcune stablecoin, se conviene comprarne, se possono alzarsi di prezzo, o confondono anche magari il video che ho fatto precedentemente, in cui parlavo dell'oro, con una stablecoin, questo devo ribadirlo, se una moneta è collegata all'oro, l'oro non ha un valore stabile, ma fluttua sul mercato. Il concetto di stabilità è molto relativo ovviamente, qui si definisce stabile perché è legata ad una fiat, quindi pari al valore del dollaro, anche il dollaro in confronto all'euro non è stabile, se poi andiamo a vedere, però è stabile rispetto alla fiat che rappresenta, mentre invece se è legata all'oro non è una stablecoin, è una moneta digitale pegata sull'oro. Fatta questa distinzione, la notizia che arriva è stata riportata da diversi fonti, diversi divulgatori, questa mattina stessa mentre preparavo il video, visto che anche Ivan OnTech ne ha parlato, e altre fonti abbastanza importanti del settore. Questo è uno di quei video che rischio mettendo online, perché probabilmente questo è uno di quei video ad alta probabilità di essere bloccato, perché menziono delle cose che a YouTube fa scattare quel controllo, no? Come sappiamo, quindi spero che questo video rimanga, se non lo state più vedendo, probabilmente lo trovate sul library, se questo dovesse essere rimosso. C'è questa figura internazionale, Financial Stability Board, che ha consigliato e consiglierà una regolamentazione forte su tutte le stablecoin. Cerchiamo di capire questo cosa vuol dire e che impatto potrebbe avere. Qui abbiamo dei punti che riassumono il discorso. Allora, la FSB, che appunto adesso starà a rappresentare la Financial Stability Board, vedremo che cos'è, ha predisposto, ha presentato 10 raccomandazioni alle banche centrali per regolare le stablecoin, includendo anche in alcuni casi delle proibizioni, quindi dei ban. Questo viene proposto all'intero sistema finanziario, quindi tutti quei paesi più sviluppati, economicamente più sviluppati, che comprendono il G20 e tutti i vari trattati internazionali. Vanno riferimento a stablecoin, includendo le maggiori stablecoin, tra cui USDT, quindi Tether, USDC, Circle, quella utilizzata da Coinbase, TrueUSD, PAX e DAE, quindi le maggiori. L'invito è quello di avere una supervisione su quello che sta succedendo e quello che queste monete potrebbero rappresentare, quindi il pericolo che potrebbero rappresentare. E suggerisce che, visto che ci sono monete che sono completamente decentralizzate, di adottare un ban definitivo. Parliamo ad esempio di sistemi come DAI, MakerDAO. Il primo focus è quello di far vedere quali sono i rischi che questo ecosistema va a proporre. Abbiamo anche un documento, da cui viene estrapolato, viene scritto tutto l'articolo, e questo documento è linkato, ve lo lascio in link anche in descrizione, dove potete leggere tutti i vari dettagli. E appunto ci elenca al capitolo 2.1 i potenziali rischi che portano queste monete alla, quindi quando parla di GSC sarebbe Global Stable Coin, e quello che portano alla stabilità finanziaria internazionale. Quindi il rischio che andrebbero a correre l'ecosistema finanziario se permettesse la crescita di queste stable coin, cioè la imposta proprio come una minaccia al sistema finanziario. Ho trovato molto interessante questa parte in particolare. Ci va a dire di come se l'utilizzo diventasse a larga scala, e quindi aumentasse la confidenza delle persone nell'utilizzo di queste alternative, di questi sistemi finanziari alternativi, qualcuno potrebbe vederlo come uno store of value, quindi andare a salvare, a risparmiare, quello che ha in questi tipi di monete, o magari intenderlo come sistema di pagamento alternativo. Il rischio, che ci dice, è quello che questa confidenza è pericolosa perché? Perché chi va a predisporre queste soluzioni finanziarie potrebbe in qualche modo subire delle problematiche, e quelle problematiche potrebbero mettere a repentaglio quella che è la stabilità economica dell'individuo che ha affidato i propri risparmi a quella soluzione. Cioè, loro stanno mettendo il discorso come se fosse a protezione dell'utente. Ne parla proprio in questi punti qui. Ma torniamo all'articolo che ci va a spiegare bene tutto quanto, tutto quello che dice è poi approfondibile tramite il documento ufficiale, che è la proposta ufficiale, che vi invito a visionare. Guardate qui, queste fiat-packed cryptocurrency rappresentano un rischio alla stabilità finanziaria di tutti quei mercati emergenti o economie in sviluppo. Che cosa vuol dire? Che praticamente lo vedono come un rischio per quei paesi che non sono economie come ad esempio gli Stati Uniti o l'Europa, ma magari quei paesi in via di sviluppo, che possono essere i vari stati del sud-est asiatico, che possono essere gli stati del Sud America o quelli dell'Africa. Cioè, il rischio è quello di adottare soluzioni alternative come le stablecoin e non quello di utilizzare un sistema basato su fiat currency che hanno visto stati come Venezuela, Argentina, paesi come Zimbabwe o tanti altri avere una inflazione o iperinflazione assurda. No, il rischio è quello di adottare stablecoin. Qui sto cominciando già a dire un pochino di quello che penso. Comunque, il Financial Stability Board pensa che queste stablecoin globali potrebbero rappresentare dei challenge alle banche centrali. È questo il punto. È più che altro preoccupato da quelle situazioni macrofinanziarie, problemi macrofinanziari che potrebbero arrivare o crescere nel tempo. Dove i cittadini, sia i paesi più avanzati, sia quelli con mercati in fase di sviluppo, potrebbero favorire le stablecoin alle fiat currency esistenti. E questo è il punto di tutto. Praticamente quello che sta dicendo la Financial Stability Board a tutti i paesi più sviluppati del G20 e alle banche centrali è Il rischio è che questi vi tolgono il lavoro e che questi vi tolgono il giocattolo. È questo. Il discorso è questo. Occhio che le stablecoin stanno prendendo un consenso sempre maggiore. La finanza decentralizzata è un pericolo a quella che è la finanza tradizionale, vecchia e lenta, che arricchisce pochi. E quindi, occhio perché... E allora, come facciamo a giustificare un eventuale ban o regolamentazione? Beh, diciamo che è un rischio per l'utente che lo utilizza, quindi noi che siamo il bene, che dobbiamo garantire i diritti di ogni cittadino e di ogni persona nelle economie più sviluppate, dobbiamo in qualche modo regolamentare queste cose perché sono pericolose. In particolare, nelle economie più avanzate, quello che è preoccupante sono quelle stablecoin che sono strutturate per essere decentralizzate, che hanno natura decentralizzata, perché il rischio è quello di poter mantenere il loro valore. Mentre invece per i mercati e le economie emergenti c'è proprio il rischio che invece di utilizzare una moneta locale, quindi la fiat del paese, si utilizzi una stablecoin magari ancorata al dollaro di un altro paese, quindi appunto di un altro paese, degli Stati Uniti. Magari facciamo l'esempio classico, quello del Venezuela. Il Venezuela non usa più il Bolivar perché è super-iper-inflazionato, quindi non vale più nulla e si sono salvati in qualche modo utilizzando monete alternative, sia cryptocurrency come bitcoin, come dash, come altre, sia stablecoin, ancora dal dollaro, sia dollaro stesso. Se non avessero fatto così sarebbero andati effettivamente in rovina tutti quanti. E quello che tante volte è rappresentazione di una proprio malgestione della banca centrale del paese stesso, qui viene messo come una tutela per il cittadino perché invece di utilizzare la fiat del paese utilizzerebbe una moneta alternativa e magari andrebbe ad utilizzare delle stablecoin, quindi questo è il rischio. E quello che potrebbe portare è a delle bank runs, quando si parla di bank runs vuol dire le persone che vanno in banca e prelevano tutto quello che hanno nelle banche per utilizzare qualcos'altro. In più ci dice, le stablecoin potrebbero potenzialmente diventare una sorta di repo market ibrido per il dollaro e anche qui è un altro punto dove vogliono fare pressione perché vedono l'instabilità del dollaro al momento che è la moneta di riferimento, è la fiat che rappresenta tutto il sistema bancario per come è strutturato ora con le varie banche centrali. Quindi il dollaro è il caposaldo del sistema finanziario e lo vedono in una situazione critica soprattutto con l'emergenza che stiamo vivendo proprio perché tutti hanno davanti gli occhi i trillions e trillions che stanno stampando continuamente. e la caratteristica di essere effettivamente un easy money e quindi hanno paura di tutto il giochino fatto tra riserva frazionaria e i vari salvataggi di società, tutte le società zombie che esistono, tutte le problematiche legate anche al pagamento di mutui, legate a una catena che potrebbe rompersi se ci fosse un collasso magari di qualche piccola banca o di qualche paese e quindi hanno paura che si possano utilizzare delle alternative e vedono come primo rischio, come primo challenge quello di poter utilizzare una stablecoin. Voglio ricordarvi che il tutto nasce soprattutto da quando Libra ha proposto e Facebook ha lanciato il suo progetto, ossia Libra. Perché da lì, dall'anno scorso, questo è stato un qualcosa che ha fatto scattare proprio tutti all'allerta, cominciare a parlare di questi discorsi qui. Voglio suggerirvi di guardare questo bellissimo video, che è veramente un bel intervento fatto da Christine Lagarde, si chiama Wins of Change, questo video mi era stato consigliato, anzi ci era stato consigliato da Andrea Metri durante un podcast quando parlammo con lui di The Rock Trading su CoinSquare e ci disse di guardare questo video e di come l'attenzione si sia fatta sempre più importante sui sistemi, sul sistema cripto, soprattutto a riguardo delle stablecoin. Questo video è molto interessante per far capire fino a che punto ormai c'è la conoscenza del settore, che è molto molto avanzata, quindi ve lo suggerisco. Il discorso è semplice, ci arriveremo anche tra un po', che tutti i paesi stanno pensando di passare, diciamo, distribuire la loro moneta digitale. Tutti quanti hanno in mente una CBDC, quindi una Central Bank Digital Care, siccome ad esempio sta facendo la Cina, lo stesso piano ha in mente la Banca Centrale Europea e molto probabilmente a qualcosa del genere, già stanno pensando anche negli Stati Uniti. Quindi questo, ovviamente, deve essere fatto. Prima però bisogna andare a regolamentare qualsiasi alternativa che potrebbe dar fastidio al piano principale, per mantenere lo status quo delle cose. Quindi questo è il discorso in generale. C'è da tenere in mente che questa è una raccomandazione, ossia non è un qualcosa di già predisposto alla discussione, però c'è da sapere che la Financial Stability Board non ha nessun potere legale, formale, ma le sue raccomandazioni sono molto molto influenti. Sono rappresentativi dei ministri della finanza, di banche centrali e di tutti i stati membri del G20. In più tante altre organizzazioni internazionali come IMF, BIS, Banca Centrale Europea, World Bank e la Commissione Europea. Quindi, insomma, i membri che fanno parte di questo organo sono molto molto influenti. Per questo, questa lettera, questo documento che vi stavo facendo, che vi ho fatto vedere, è un documento abbastanza importante e potrebbe anche prendere piede in modo molto veloce, soprattutto visti i tempi che corrono. Quali sono queste raccomandazioni? Le autorità dovrebbero essere in grado di mitigare i rischi che sono associati con le stablecoin o addirittura proibire l'utilizzo di certe stablecoin nelle loro giurisdizioni. Cioè, quello che si vuole fare è creare una sorta di regolamentazione internazionale dando i poteri ad ogni governo di, volendo, proibire l'utilizzo nel proprio paese di quegli strumenti. E come si fa a proibirne? Voi magari starete pensando, sì, ma come fanno a proibire una moneta che comunque è internazionale? Non proibiscono direttamente l'utilizzo o lo scambio, ma la custodia, ad esempio, o i servizi che sono legati a quella moneta. E in questo contesto è tutto molto più facile. Se pensiamo all'esempio USDT, che è quella più grande, Tether, per essere elargita, per crearne, c'è una Tether Foundation che, ripeto, dovrebbe custodire dei dollari. Per ogni dollaro custodito dovrebbe creare, potrebbe creare un USDT. Bene, basterebbe colpire e regolamentare la foundation che detiene quei dollari dicendogli non lo puoi fare, non puoi diventare una sorta di banca centrale e a quel punto finirebbe USDT. Perderebbe il suo valore. Se si slega, se si rompe l'ancoraggio, quindi se non è più pegged, quei USDT che girano non hanno più valore. Non è come per Bitcoin che, se sapete come funziona, è un discorso diverso. Comunque arriveremo a vedere anche le conseguenze che possono esserci su Bitcoin. A questo punto le cryptocurrency e gli issuer non andrebbero più ad operare in una zona grigia, ma sarebbero ben identificati. E quella regolamentazione che tanti chiamavano a voce alta, che in realtà, come spesso detto, la regolamentazione non viene mai fatta per favorire, ma una regolamentazione in questi contesti andrebbe solo ad imbrigliare e favorire lo status quo, cioè non cambiare nulla per com'è. Quello su cui premono è anche una visione e una regolamentazione internazionale, altrimenti se ogni paese facesse di testa sua si rischierebbe appunto un regulatory arbitrage, dove in certi paesi alcune cose sono consentite e in altri no, basterebbe poi spostarsi in quel paese, perché nel mondo digitale è facile avere una sede, un paese dove si permetta di farlo. E qui fa l'esempio di, lo chiama proprio, un international banking cartel, come se fosse un cartello bancario internazionale e se si opera ad esempio su paesi che non sono controllati da questa sorta di cartello, come ad esempio Panama, allora potrebbe continuare, cioè quelle monete potrebbero anche essere prodotte a Panama, ma l'unico modo per poterlo utilizzare sarebbe tra i cittadini di Panama e tutti gli altri paesi non potrebbero utilizzarne. In definitiva quello che si vuole ottenere è che tutte le autorità che vanno a creare delle global stable coin devono avere una governance con una chiara accountability, quindi una dimostrabile e trasparente gestione di tutte le attività che fanno. Praticamente quello che voglio dire qui è, se c'è una società come Tether, come la stessa Circle, come potrebbe essere anche Coinbase nel caso della USDC, se vanno a creare delle monete deve essere chiaro e regolamentato come stanno facendo, devono avere una licenza, quello che ci dirà dopo, per avere il permesso di farlo devono effettivamente avere una licenza, come se fossero una banca a tutti gli effetti, è quello che andrebbe a diventare. Questi sistemi entrerebbero nel circuito e regolamentati come delle banche vere e proprie, quindi si ingloberebbe il tutto e non cambierebbe più nulla, non ci sarebbe più un'alternativa. Quello che si vorrebbe poi fare è una tracciabilità anche di tutti gli utilizzatori e di tutti i dati che vanno ad operare su quelle che sono strutture anche come quelle della DeFi, quindi non potrà più esistere ad esempio un sistema dove con il nostro indirizzo pseudo-anonimo di Ether, possiamo operare e magari collateralizzare, creare delle stablecoin, spenderle, cambiarle, perché se si fanno di queste operazioni bisogna in qualche modo avere una sorta anche noi di tracciabilità dei nostri dati, far sapere chi siamo, perché stiamo facendo queste operazioni e forse potrebbero essere fatte, forse, ma se la cosa è troppo decentralizzata probabilmente sarà proibita e basta. Queste sono le considerazioni e le proposte che vengono fatte, e lo dice proprio chiaramente. Proibiting fueling decentralized systems. Quindi c'è proprio una richiesta esplicita di proibire quei sistemi completamente decentralizzati, perché non possono essere regolamentati. Quindi, se ad esempio USDT volesse permettere a quei cittadini del G20 di utilizzare i propri tether dollar, dovrebbe ottenere una licenza registrata e rilevante per le autorità in ognuno dei paesi del G20, quindi praticamente dovrebbe diventare a tutti gli effetti una sorta di banca, cosa che non riuscirà mai a fare, no? Perché come si fa a pretendere una licenza, una regolamentazione in tutti i paesi che fanno parte, non avverrà mai, la burocrazia ammazzerebbe il sistema. E questo va ad inferire su sistemi come tether, silk, paxos e anche binance stesso. In definitiva questo, più o meno, potrebbe lasciare le banche come unica fonte di monete basate su fiat, quindi fiat backed digital currency, perché l'idea è quello di produrne in ogni paese, quindi si stanno spianando la strada per rilasciare quelle governative. Ma questo è chiaro perché se ci fosse un'alternativa, se quando tutti i governi lanceranno il loro CBDC, ci fosse anche USDT nei vari market e ci fosse anche USDC e tutte le altre con DAI, eccetera, perché dovrei utilizzare, quando poi è palese che una è digitale ma creata e controllata dal governo, tracciabile, dove posso rischiare se faccio un qualcosa, non lo so, anche di sbagliato nella mia contabilità, nella mia fiscalità. Nell'altra il tutto è molto più fluido e meno stressante dal punto di vista burocratico, posso fare i miei scambi, magari il mio trading sui vari exchange, quelli che sono i scambi su Ether, su Bitcoin. E beh, tra una e l'altra scelgo quella più libera, quella diciamo meno pressante. È normale, quindi vogliono togliere di mezzo l'alternativa. Quali sono le conseguenze long term di questo su Bitcoin e sulla DeFi? Voglio farvi vedere che dobbiamo renderci conto che ad esempio Tether, che è la più utilizzata, guardate i volumi della scorsa giornata, quindi nelle ultime 24 ore, ha mosso 30 miliardi di volumi contro Bitcoin, che pur essendo la più capitalizzata e capitalizzando molto di più rispetto a Tether, che capitalizza 6 miliardi contro i 126 di Bitcoin, nonostante questo, a livello di volumi scambiati, quindi i scambi che vengono fatti sull'asset stesso, sono molto più grandi quelli su Tether che di Bitcoin. In generale qui ci dice che le 5 stablecoin più grandi vanno a contare i 2 terzi di tutti i volumi di scambio del settore e del mercato cripto. L'impatto più grande che avrà questo, se dovesse subentrare questa regolamentazione, è quello di andare a diminuire tantissimo la liquidità del mercato, perché quello che è stato l'impatto più grande ad esempio di Tether è quello di avere accresciuto la liquidità stessa dei mercati, perché sugli exchange tutti scambiano cripto con stablecoin, non vanno a fare un passaggio e uscire direttamente in fiat, quindi il cambio direttamente in euro o in dollaro, ma rimangono all'interno del sistema cripto scambiando su stablecoin e facendo del trading in quel modo lì. Questo è palese anche perché non uscendo non ci si va neanche incontro al discorso plus valenza e tanti altri aspetti. Guardate quanto è cresciuto nel tempo l'utilizzo e i volumi di Tether ad esempio dal 2018 al 2020, un incremento enorme. Qui voglio aggiungervi una mia riflessione, a me sembra palese di come questo sia in modo molto indiretto un attacco effettivamente non molto, ma è un attacco al sistema e al mercato emergente perché bitcoin in questa fase critica, ricordiamo sempre che bitcoin e tutto quello di cui stiamo parlando nasce da bitcoin, quindi bitcoin nasce proprio per avere una soluzione alternativa a un sistema drogato, malato, che corre il rischio di implodere, quindi questa bolla che si è creata negli anni nasce infatti proprio nel 2008. Adesso che il momento è storico e critico, questo sistema potrebbe prendere un'attrazione enorme e bannare bitcoin non funziona, non si può bloccare bitcoin, questo è stato dimostrato anche dall'India che ha provato a fare un ban su bitcoin e la Corte Suprema sui diritti civili, sui diritti dell'uomo ha proprio detto no, è un diritto che non si può togliere, è una privazione di libertà fare un ban su bitcoin, quindi non si può fare in questo modo qui. Però un'alternativa è quella di distruggere la sua credibilità, il suo settore, farlo vedere come è cattivo, è quello che si è sempre cercato di fare, quindi la moneta utilizzata per traffici illegali, per manual laundering, adesso questo comincia a non funzionare più, si cerca di rompere i suoi meccanismi di mercato, quindi facendo vedere che è molto pericoloso che si perde tutto, con grandi manipolazioni in cui sono subentrati sicuramente manovre anche governative, e poi attacchi di questo tipo dove si vuole distruggere quella che è la liquidità di un mercato, e in questo modo lo si fa, perché effettivamente se dovessero uscire le stablecoin dal mercato la liquidità sarebbe veramente in gravi difficoltà e sul breve termine ne risenterebbe tutto l'ecosistema bitcoin stesso, parlando di prezzo. Considerate che per esempio su Binance le 5 coppie più scambiate usano USDT e rappresentano il 57% del volume scambiato. Quello che potrebbe succedere è un ritorno a magari coppie di scambio tra asset speculativi, come potrebbe essere le coppie tra Ethereum-Bitcoin, Ethereum-XRP, Ethereum-Bitcoin Dash, Bitcoin-Monero, non so, queste coppie qui, perché effettivamente se togliamo le stablecoin, una volta era così, adesso si è esploso il discorso del cambio su stablecoin, una volta gli exchange erano proprio per fare scambio tra cripto e cripto, soprattutto Binance agli inizi, era prevalentemente questo. Poi è cresciuta sempre di più il volume di scambio tra stablecoin, dove le coppie di scambio sono prevalentemente Bitcoin-USDT ad esempio. Questo potrebbe tornare a come era prima, ovviamente frenando tantissimo quella che è l'adozione anche a livello di trading, di interesse e di tutto il sistema. Sistemi come MakerDAO, che magari vi starete domandando come possono impattare un sistema decentralizzato, beh, quel modello di business potrebbe andare sotto una regolamentazione molto pesante, portando a tutto ciò che si è costruito sopra quello che esistema, come sistemi come compound, ad essere proprio annullati perché effettivamente non si può più fare un certo tipo di liquidità, pool di liquidity e tutto ciò potrebbe avere delle ripercussioni molto pesanti. È ancora difficile da capire come questo potrà essere impattato perché MakerDAO, quello che potrebbero attaccare è la foundation, quindi la governance, la governance che sta dietro a chi detiene Maker, che vota, che implementa i vari cambi. La stablecoin di per sé è veramente decentralizzata perché ha il collaterale su un asset decentralizzato, già dichiarato non security, quindi comunque sia, è un qualcosa che non è attaccabile come Ethereum, ma possono attaccare la governance e la struttura. E da questo punto di vista è difficile capire come ci si possa difendere. Il tutto qui è solo, parliamo di una proposta, niente di effettivo, quindi il tutto sarà da studiare e sul divenire. Altre stablecoin che saranno impattate sono quelle di Libra. E secondo me è proprio da lì che scatta proprio l'allarme di tutti perché Libra era una minaccia alle varie CBDC. Poi quelle che sono tutte le... la moneta associata a Bitfinex, quindi Tether e Circles USD Coin, come vi ho detto. Coinbase, d'altro canto, invece potrebbe comunque beneficiare perché Coinbase ha sempre operato anche con Fiat e il cambio euro, cripto o dollaro-crypto e ha degli stretti legami anche con i regolatori degli Stati Uniti. È sempre stato compliant, come può essere anche una Gemini. Anche Gemini ha la sua stablecoin, per esempio, introdotta in tempi recenti. Tutti questi sistemi vanno ad incrementare ancora di più tutti quei sistemi di AML, quindi anti-money laundering e Know Your Customer, perché effettivamente se si elimina lo scambio su stablecoin, l'unico modo di fare questo tipo di scambio è tramite quegli exchange regolamentati e quindi per forza di cose si dovrà passare per KYC e per regolamentazioni dove il governo saprà chi sta facendo cosa. E ovviamente la scusa è quella di controllare e di avere una tutela per il cittadino. Ricordiamoci sempre questo, perché quello che andranno a proporre è una protezione per noi, non per loro, ma sarà sempre una protezione per noi. È quello che spingeranno. Andando a spingere fuori dal gioco questi tipi di stablecoin sarà molto più facile inserire nel gioco tutte quelle stablecoin che verranno create dalle banche centrali. È questo il discorso. In definitiva, qualche giorno fa, nell'ultimo Crypto Monday, parlavo di come ci sia tanta distrazione su tematiche irrilevanti e si perdono energia ad inseguire i fantasmi, le streghe. Qui queste sono le cose che veramente impattano le nostre vite, quando qualcosa che abbiamo davanti agli occhi ci viene tolta dai diritti, perché effettivamente ci vogliono far credere che alcune manovre sono per la nostra protezione, ma in realtà vogliono solo mantenere lo status quo. È di quello che dobbiamo avere paura, di quelle cose che siamo abituati a fare e non riteniamo essere quello un rischio o un pericolo, come ad esempio l'utilizzo di fiat currency, che abbiamo visto come hanno fallito nel loro esito, in questa storia che parte dal 1940, circa dagli anni 40, in questo ciclo macroeconomico che si sta chiudendo ed ha fallito, stanno provando a tenere il barcone a galla, si sta provando a mantenere quello che è in tutti i modi questo sistema che fa acqua da tutte le parti e questo lo abbiamo davanti agli occhi, ma non protestiamo mai, ma cerchiamo streghe chissà dove, soprattutto andiamo ad attaccare magari il discorso di un'emergenza sanitaria che molto probabilmente non ha niente di che dietro, ma probabilmente quello che si sta facendo, lo stanno facendo davanti agli occhi e ve lo stanno facendo da anni e quello che sta succedendo è solo un ago che sta bucando, una bolla enorme che già si era creata, non è che questo evento che stiamo vivendo ora sia stato in qualche modo architettato, anzi potrebbe essere un bel rischio per un ecosistema già barcollante e potrebbe far vedere potenzialità di altri sistemi alternativi, questo è il mio modestissimo pensiero. Comunque questo è quello che sta succedendo ed è effettivamente molto rischioso perché potrebbe entrare in vigore anche in modo inaspettatamente veloce rispetto ai sistemi tradizionali che solitamente sono molto lenti. Vedremo come questo evolve, starò qui ovviamente a seguirlo. Nella giornata di oggi, parlo nel momento in cui sto registrando questo video, dovrebbe uscire anche quel documento scritto da Ray Dalio riguardo a appunto questo ciclo macroeconomico in via di chiusura. Nel momento in cui sarà rilasciato perché parlava appunto di mercoledì, mercoledì 15 aprile, cercherò di leggerlo, analizzarlo. Se volete seguire quello che ne penso, la mia analisi su quel documento che arriverà, iscriviti al canale, iscrivetevi al canale e ci vediamo appunto al prossimo video. Fatemi sapere che ne pensate di questi aspetti qui e di questo discorso che potrebbe essere avere un impatto a breve termine molto importante. Ah, dimenticavo, per il lungo termine questo potrebbe anche, a parte che per il breve termine potrebbe anche favorire Bitcoin, perché pensiamoci bene, tutti quelli che hanno i propri depositi in stablecoin, pochissimi andranno a tornare in euro o in dollaro. In molti magari decideranno di mettere tutto su Bitcoin, quindi potrebbe anche avere un effetto positivo su breve. Sul lungo termine potrebbe distruggere quello che è un trend importante come ad esempio la finanza decentralizzata e di conseguenza impattare tutto al mercato stesso rallentando l'adozione, quindi rallentando quella che è la crescita e la conoscenza di Bitcoin stesso. Questo magari sarà da approfondire meglio. Fatto sta che per ora questa è solo un'analisi su una proposta che viene fatta, non è niente di effettivo, ma molto importante da tenere a mente per essere pronti qualsiasi cosa succeda. Grazie ancora. Ciao.